Buongiorno, buonasera ragazzi, benvenuti in un nuovo video patch, con me c'è Dario. Ciao ragazzi. Scusate l'attenza, eh, non è, c'ho un esame il 22 dicembre, vaffanculo, Università di Merta il 22 dicembre. Le nostre spiegazioni del né, né, né. Allora, siamo qui per la patch, è arrivato Sgardo. Ragazzi, sincero, vi ho fatto il primo video su Albafica e io non so se consigliarvi di pullarlo su robo, per tutta la buona volontà, perché non è scarso, eh, non ci da me dire che sia scarso Asgardo. Il problema è che in Galactic, i posti quelli su, gli RC dei PG sono dieci volte più forti dei PG nuovi. Cioè, c'è Albafica e RC fortissimo. Tramus DC, ottimo, grande schiavo che ha avuto molta fortuna a pullare qualcosa. Poi ce l'avete, ehm, Pandora è fortissima. E i prossimi che saranno? Succhio, che lo immagino a sto punto una bestia di Satana. E, boh, cioè, continuo a pensare che i RC siano fatti molto meglio dei PG nuovi. Ora vedremo il seed. Ah, hanno ufficializzato il seed per la cronaca. Eh, però, boh, io non so quanto sia worth andare di porma sui PG nuovi. Motivo per il quale io ve le faccio qui. 40 al giorno, lei dica, mi devono il ventico di torno. Se lo pullate bene, se non lo shardate con le 40 al giorno, ho tutta calma. Se lo shardate, ovviamente, perché poi sappiamo i detti di sto gioco, pure con le shard. E, boh, cioè, all'averli li dovete avere questi qua, perché comunque è un ottimo PG a sgardo ed è in un tempio buono. Skillarlo? Boh, cioè, se io lo andrò a skillare, lo farò 1-1-5-5, non lo pusho. Non lo pusho nella vita. Ultima di oggi. Poi mi dispiace, perché ci iniziano a fare pure sta cosa che ti toglie la voglia di pullare in un gioco gaccia. Boh, non so che senso possa avere. Vero che quando uno poi vede i raid di S e quando vede delle shard, non è che c'è proprio tutta sta grande voglia di pullare, eh. Però, non lo so. Vabbè, tolto a sgardo. Allora, vediamo un attimo la patch. Treasure Hunter, Half-Paced Ghost. Puoi dire, e poi per the short of the level of war. Voi direte, c'è il Treasure Hunter. Ok, allora io ho, vabbè, questo è un piccolo spoiler su che cos'è il Treasure Hunter. Treasure Hunter. C'è Asgardo, ma il Treasure Hunter è su Thanatos. Che vuol dire? Ovviamente vi sconsiglio di farlo, perché c'è un volume di Thanatos, non di Asgardo. Non ha senso questa cosa, totalmente useless. Non ha senso il valore, in realtà, perché vale per due, però... Quello sì. E poi è il discorso, a livello di fiori ci sembra la solita roba, andiamo a fare i diri gratis, l'unica cosa figa là dentro è la skin, però sappiamo bene che la skin poi prima o poi torna. Oddio, che è sta roba? Vabbè, scam. Vediamo gli altri pacchetti. Scam. No, questo è buono. Questo mi tocca dire, questo è buono. Questo è buono. Ma l'hanno messo. Oddio, no, spesso nello scambio a tempo, dove vado proprio. Non so come mai stanno pigliando questa politica. È una politica un po' strana usciare nel tre giurante di un PG vecchio. Boh, non lo so. Perché evidentemente hanno un'idea che è più di più comunque lui che ha sgardo. Ma è probabile, sinceramente. L'unica cosa però veramente buona, il suo tre giurante è questa skin che è fighissima, per l'amore di Dio. Il primo tre giurante era quello che era uscito con la skin di Ikki e Ikki non si giocava già più quando è uscita la skin. È vero. Non lo so, qui c'è l'altra novità che vi volevo far vedere. C'è Camus RC, nella patch ovviamente, non è stato messo. Comunque vabbè, andiamo a vedere la choice. Dimension Invasion è carino comunque come si può sapere. Detta Awakening. C'è l'RC di Tantos. Cioè è Asgardo, ma la patch a me sembra più di Tantos che di Asgardo. Nuovo Cosmo che ve lo andiamo a vedere. Christmas coupon recharge double reset. Hanno risettato i coupon doppi. e nuovi piani dell'Athena Trial. Ce l'hanno fatta, ragazzi. Che ormai, visto che se continuano a aumentare la difficoltà, partendo da dove erano arrivati, probabilmente ci entra Tantos da solo e li passa entrambi. Probabile. La cosa strana, ok, hanno messo veramente i pezzi di acquario. Hanno appena trovato uno, ragazzi, quindi abbiamo la prova. Ma ci sono i pezzi di Camus, non scritti nella patch, perché non erano per questa settimana, erano per la prossima. Tutta roba buona. Eh? Ma ti viene scritto tutta roba buona. Ma è così strano. Non ho mai fatto caso. Manco io, infatti non so di che parlare. Boom, mettiamo a fare gli spallacci di Camus. Insomma, le patch, come al solito, mezze fatte, mezze non fatte, mezze volute, mezze non volute. Io non so bene che dirvi. Che non volute? Questo è quello di Tantos. Fate due tiri gratis, anche se l'avete completato, mi raccomando, sono comunque materiali in più. L'invasion, ecco l'invasion dimensionale, è la solita. È il solito evento, fate le missioni gratuite, fate le sfide. Non è un brutto evento questo alla fine, secondo me, anche per chi vuole shoppare. Non è un brutto evento. Vediamo che ci hanno messo. Ci hanno messo la Commander. Ah, non mi fa vedere i pacchetti dopo, ma ci hanno messo la Commander. Alla fine, non sono eventi totalmente scam questi. Il resto è un po' così. Bello, bello. La cosa più positiva si può dire è che non sono totalmente scam. Eh, sì. Solo parzialmente. Esatto. Vediamo... C'è qua là. Vediamo il Pandora Small qua, che cosa ci dice. C'è il 70% di scotto, quindi si è andata la solita roba da quattro anni. Eh, boh, i pacchetti per Natale non li hanno messi, però c'è la patch prima. Sì, le eleganze per i di Natale. Sì, però di solito poi mettevano altre robe. Questo mi sembra molto standard. Non hanno ancora messo nulla lì clamorosa. Oppure può essere che rimangano così effettivamente scotte. Alla scolina. Boh, è un po' triste. La cosa più importante della patch non era stata messa nella patch. E vabbè, ragazzi. Molita storia con questi grandissimi promotori del marketing. Ma io le asking di tanto sta qua, come si vede. Dove sei? Eccolo qua. Ma probabilmente Camus è per la settimana prossima. È sempre la patch bisettimanale. Non hanno il modo di nascondere la roba. Quindi è tutto dentro. Questo è proprio il double face di Batman. Due facce. Però è la lanterna di Jack O'Lantern. Un po' fantasma dell'opera. Sì. Ma è bella comunque la skin. La skin è bella, bella. Almeno non è semplicemente buttiamoli su un lenzuolo e abbiamo fatto la skin. Oppure cambiamoli solo i colori. Cioè è una skin. Ma questa io me la sono persa. Quando è uscita? Ma che roba è? È per te, no? No, è Persefone. È Persefone. Ma con quale sunflowerismo me la stai dicendo? Arriba. Abbastanza. Forse esce la settimana prossima. Non l'ho vista nemmeno io. Aspettovi un attimo. Ma l'hanno caricata la skin di Asgard. E dove l'hanno vista? Tutte le cose che devono mettere oggi perché rischiano la settimana prossima, evidentemente. No, scusami. Me la sono persa io, forse. Non è nel coso mensile? Come si chiama? L'evento mensile? Ah, da me è da tutto. La me è da il 27. Eh. Mi sembra strano. Fatemi vedere. Però un cavaliere nuovo messo nella medal, raro. Molto raro. Zampata del toro! Non è che l'hanno messo qua, no? Non è Aula of War. Due cazzo l'hanno messo. Ma che cazzo stanno facendo schifarsi? Sono due skin che non dovrebbero esserci, ma ci sono... Saranno in vendita la settimana prossima, evidentemente. Ma dopo l'hanno messo? Ah, lo sconto speciale è quello buono, però. Ah, quello per due. E ricevi due extra, sì. Tanto probabilmente nessuno se ne accorgerà e venderanno il niente come quello precedente. No, ma ragazzi, dov'è la skin di Asgard? Settimana prossima. Vabbè, questo è lo scam dell'altra volta, l'hanno riproposto. No, la skin di questo mese è cammo. No, ma io non parlavo del Montalese Nien che te lo regalano, io parlavo di quello a pagamento. Sì, no, no, ok, ho capito. E senti me, come diceva Pala, che per adesso c'ha Icchi, poi cambierà. No, sono un attimo in confusione io stesso, ragazzi, sincero. Cioè, c'è la skin, ma non c'è. Che vuol dire? Esistono cose che non esistono. Non dovrebbe esserci, non è nel mercato della valuta che ti sta pullando. No, no, ho controllato pure prima. Boh, ragazzi, sincero, non lo so, è stranissima sta roba. C'è un evento, cos'è Spedizione del Grande Tempio? Eh, quella di Temma, di solito. Ah, guarda un po', se c'è lì qualcosa. Ah, no, ok. Ah, no, per esempio. Probabilmente non è neanche che uscirà la settimana prossima. È probabile che esca qualche tipo di store, di shop o evento durante il weekend. Per Natale. Sì, infatti, un po' strano sta roba, ragazzi. Il Natale comunque è prima di mercoledì prossima, quindi questa è la faccia di Natale. Magari l'evento però parte di domenica, di sabato, chi lo sa. Io a Natale apro i fiori, apro tutto, vediamo un po' che cosa succede. Apri il vischio. Non è un po', giusto, un po' di fiori qui da aprire. 62,7k, adesso non può. Vabbè, dai, boh, ragazzi, è strana sta faccia. Ci sono cose che non dovrebbero esserci e cose che dovrebbero esserci che non ci sono. Boh, non so che dirvi, sinceramente. È sempre un metodo peggio della settimana prima. Però, boh, vabbè. Il PG, vi ripeto. Lo sciocco che lo facciamo, perché tanto Ceruz, penso, lo farà. Spero. Vabbè, Ceruz, fammi sapere. E proveremo a sgardo. Il problema è che, vi ripeto, per chi vuole tenersi Tommy per fare Mu, per fare Lex, o fare Sid, non conviene pullare, ma non perché sia scarso il PG o non utile, ma totalmente tanto forti gli RC dei PG vecchi, che i PG in voi non hanno senso. E non è che uno può dire, questi prima o poi diventano un RC. Sì, è vero, ma quando? Boh, non lo so, strana situazione, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video e ne parliamo meglio dopo il 22, che è finito l'esame. Ciao, ragazzi. Bye, bye.